Anno scolastico nuovo, vecchi problemi. Parliamo della carenza di personale che ormai da anni sta mettendo in ginocchio il sistema scolastico in Italia, in particolare nella nostra regione a denunciare questa carenza per le province di Teramoichieti e la FLCCGL. Nella provincia Prutina, sottolinea la Confederazione Generale del Lavoro, sono previste solo 54 emissioni in ruolo di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, ma la disponibilità è decisamente superiore. Infatti sarebbero 160 i posti che potrebbero essere destinati a contratti a tempo indeterminato. Contratto a tempo indeterminato che non ci sarà per i direttori dei servizi generali amministrativi, i cosiddetti DSGA, la graduatoria abruzzese esaurita e il concorso non è stato bandito. Saranno ricoperti temporaneamente dai sostituti facenti funzione. Dai primi di luglio le scuole della provincia hanno comunicato all'ambito territoriale e provinciale che l'organico dato non consentirà di garantire un'adeguata organizzazione. Numerose sono le scuole che, avendo tanti plessi fino a 18, non hanno il personale sufficiente per garantire l'accoglienza, la vigilanza e la collaborazione al settore amministrativo. Non va meglio in provincia di Chieti, dove sono previste solo 95 emissioni in ruolo. Qui la disponibilità è decisamente superiore. Infatti sono 276 i posti destinati a contratti a tempo indeterminato. Uno scarto rilevante con le segreterie scolastiche sguarnite a fronte dell'aumento degli adempimenti. Sollecitiamo l'ufficio scolastico regionale, conclude il sindacato, ad autorizzare le richieste fatte dalle scuole. Sarebbe un piccolo ristoro per programmare l'attività didattica per il prossimo anno scolastico in maniera ordinata, ricordando che la pandemia non è finita e che l'accoglienza non può essere scaricata sulla buona volontà dei singoli che hanno un impegno lavorativo di sei ore e non indefinito.